Cinque donne sono state uccise nel corso del 2012 per mano dell'ex marito, dell'ex compagno e dell'ex fidanzato. Nel 2013 sono state sei, dati che collocano l'Abruzzo al settimo posto in Italia per quanto riguarda i femminicidi. Del fenomeno della violenza sulle donne si sta occupando il consigliere regionale Leandro Bracco del Gruppo Misto, che ha presentato la proposta di legge Codice Rosa. In Abruzzo, dice Bracco, si sono registrate nel corso del 2013 600 denunce di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare i propri ex compagni. L'iniziativa presentata in conferenza stampa mi restituire in ogni pronto soccorso abruzzese il Codice Rosa, un percorso di accoglienza ad hoc per tutte quelle donne che trovano il coraggio di denunciare. È una proposta di legge a costo zero per le casse regionali, dice il consigliere Bracco, Altamente Articolata vede il coinvolgimento sia di professionalità mediche altamente specialistiche, sia di associazioni che da sempre si battono per sopprimere la violenza sulle donne. La cosa è il Codice Rosa? È un percorso di accesso privilegiato a tutte quelle donne che trovano il coraggio di andare a pronto soccorso, non tenersi la violenza dentro, farsi curare e soprattutto, la cosa fondamentale, trovare il coraggio di denunciare chi ha fatto loro del male. Questo progetto pilota è partito con successo alcuni anni fa nella provincia di Grosseto, in Toscana. Ha trovato il plauso anche della magistratura, delle forze dell'ordine e di tutte quelle associazioni che da anni si battono contro la violenza sulle donne. Mi auguro che possa trovare l'appoggio bipartisan di tutte le forze politiche al di là dell'etichetta partitica ed essere approvata, perché si sta parlando di un fenomeno, quello della violenza sulle donne, altamente preoccupante. Il fatto che nel 2013... 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 Il fatto che nel 2013...